e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo buttati andiamo a pinnacoli proviamo e benvenuti in questo nuovo video io sono billy oggi siamo qui insieme a leo per andare a giocare un po a fortnight e andiamo a un andiamo al campo da caldo lo so che non ti piace per questo l'ho detto rega allora in caso ci fosse capito questo video è stato registrato dopo il video che avete visto ieri cioè che per noi ieri e domani cioè per noi ieri e domani e oggi e dopodomani io sono intero ecco questo lo sapevamo allora il pompa epico che praticamente è l'unica cosa che mi serve cioè io con i pompa faccio sempre perché una volta ti ricordi che diceva io ti ricordi che una volta dicevo non è che lo potresti dare a me o lo vuoi tenere no non è lo scatto per me perché no lo farò se ne trovo te lo dò perché io non lo so giocare quindi in che senso scaracca quale scaracca c'è una persona ma come c'è una no dai ti prego non mi morire oh mamma no 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 hai fatto lo sbaglio più grave aveva lui c'è il mettitore leo aspetta no ma mi ha visto quello il problema cioè se non gli sparavo ho visto quello il problema vabbè ho dopo inizio l'altro visto punti perché tanto cavolo fai lì dietro sbagliato mio dio mio dio chi sono chi sono va bene davvero leo mi dispiace continui il video posso continuare nocio perché penso che il problema che c'è io l'ho visto alla fine no ma qui c'è io erano persone che appena mandano per terra uno lo ammazza cioè io non sono così io mando per una persona e poi se per caso armare che cosa ti vedessare il fucile da caccia sempre cioè io non lo so usare ma in quel momento mi sono detto porco due è lì davanti non sta a fare un cazzo ammazziamolo cioè perché ho detto ho detto speriamo che si sporge con la testa e infatti è stato così che poi è stato scemo lui perché cioè io dico no sai che sono lì dietro sai che ti sto a mirare ma non sporgere la testa dai anche il più scemo degli scemi capirebbe che lì sei in bella vista no poi magari sono solo io che poi sti qua si saranno si saranno già lottati metà di questo tutto ho ammazzato tutto il team questo è un'opera ah ok questo me lo prendo ok vai a pinnacoli adesso ah tanto ci devo andare però aspetti un atto voglio almeno prendere un po' di materiali tranquillo che io a pinnacoli la maggior parte delle volte riesco a fare qualcosa appena atterro per esempio è vero magari a terra mi faccio tre chile più muoio però intanto mi faccio tre chile a pinnacoli quindi no no a pinnacoli se ti compi a pinnacoli no poi è vero che a pinnacoli quando prendi male prendi male quando prendi male prendi male a pinnacoli cioè cioè te vai a pinnacoli prendi un po' babbo e in giocchi non prendi male eh no ma te prendi male a priori cioè se tanti becchi uno che va nella tua stessa casa e arriva prima di te sei morto te sai di essere morto cioè perché non è come qua nel campetto da calcio che uno va nel tuo posto dove volevi andare te c'è poca roba vai in un altro posto lì vicino e si trovi la roba cioè ci sono due le belle oh non mi prometto cioè io ormai conosco tutti i posti cioè non so se lo stai vedendo ma ormai sì anch'io poi vabbè ovviamente tutti quando giochi tanto guarda io so che sto facendo una pazzia ma vado solo di pistoletta silenziata eccolo vabbè l'hai visto penso sì 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 no aspetta prova a pusharlo cioè prova no lo voglio prendere in testa capisci sono in due caduto scemo ma quanto puoi scendere scemo bo oddio si è scemo vabbè anche te vabbè che qui forse li ammazzavo anch'io dico forse perché forse forse ma proprio un forse forse per me per il piccolo per il piccolo per il piccolo l'ho preso no ce n'è pure lì uno quello blu ah ok il mio è viola la pistoletta dai come ci sei la sola 9 bende no dai intanto ho il fucile da sola che me ne interessa c'è un merdo per la sinistra 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 ancora ah ecco grazie questo non l'avevo visto questo lo ammetto no ma perché mi sta laggando qual è il motivo scatenante perché ho ucciso due forti allora il gioco mi vuole male vabbè se si blocca qui adesso faccio la gioco ecco oh eh vabbè pezzi di merda è ora oddio oh my fucking god oh non ci credo però il suo compagno è morto eh cottiti ti immagini ora lui lui non ha capito che c'è vabbè regà però anche sta partita qui mi dispiace tanto perché ve la devo fare vedere così ma non credo che riuscire che riusciva ad ucciderlo lui eh però era un po' difficile anche perché lui era in alto io ero in basso vabbè comunque regà ora usciamo Leo che vi faccio vedere il livello spero di essere salito al 67 anche se secondo me no no secondo me sono tipo a no tipo a 10.700 eh infatti guarda 10.721 come non detto eh va bene regà noi ci rivediamo in un prossimo video bella